Geremias Rodriguez offende Simona, Tognazzi annuncia la querela . . Simone Itzio offesa da Geremias Rodriguez, Ricky Tognazzi sbotta su social. . Non c'è davvero un solo giorno in cui non succeda qualcosa al grande fratello Vip. Cos'è successo stavolta? Come molti sapranno bene giorni fa, Geremias Rodriguez ha avuto una violenta discussione con Simona Itzio. . E in quella occasione, come riportato dal blog Davide Maggio.it ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, asserendo senza tanti peli sulla lingua. Depressa di Emma che prende psicofarmaci per stare bene, per fare un sorriso, per svegliarti dal letto. . Questa frase, intuile negarlo, ha fatto molto indispettire i fan del reality show condotto da Ilari Blasi. Ma non è finita qua perché proprio poco fa anche Ricky Tognazzi è sbottato su Twitter, annunciando querele. . Spero che il chioccio la grande fratello prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l'avvocato lo aspettiamo fuori e. Parole di fuoco quelle usate dal marito della poliedrica concorrente del grande fratello Vip, il quale ha chiesto direttamente agli autori di prendere provvedimenti. . Il giovane fratello di Belen e Cecilia Rodriguez potrebbe rischiare di venire redarguito dall'opinionista Alfonso Signorini nella prossima puntata? Oppure potrebbe essere espulso? Geremias Rodriguez nei guai, Ricky Tognazzi annuncia querele per le offese a Simona Izzo. . Inutile negarlo, Geremias Rodriguez, dal momento in cui ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani, non è certo passato inosservato, facendo molto discutere e dividendo l'opinione pubblica. . Difatti, le sue litigate contro Simona Izzo hanno lasciato i numerosi telespettatori senza parole. Ma il giovane di origini argentine non ha fatto discutere solo per questi due episodi. . Come molti fan del reality show VIP condotto da Ilari Blasi sapranno bene, due settimane fa ha anche attaccato molto duramente Daniele Bossari, utilizzando degli epiteti davvero poco carini. . Motivo per cui Filippa Lagerbacca ha annunciato su social di aver contattato la redazione della trasmissione, chiedendo di tutelare Bossari perché molto preoccupata dalle parole pronunciate da Geremias. . Insomma, il giovane Rodriguez è stato al centro di furiose polemiche negli ultimi giorni per via di alcune sue esternazioni fin troppo colorite. . E oltre a Ricky Tognezi, sono tanti fan del reality a chiedere sul web, che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti. . Potrebbe rischiare l'espulsione dalla dimora più spiata dagli italiani come è successo lunedì scorso a Marco Predolin per via di una bestemmia? Per scoprirlo non resta che seguire la quinta puntata dello show prevista lunedì prossimo alle 21.30 su Canale 5 subito dopo il Tg satirico di Antonio Ricci. .